ragazzi e ragazze benvenuti a lecco questo sarà il blog di lecco appunto ecco già che c'è un'edicola e lei si ferma ovviamente mannaggia santa astag ragazzi chiara si ferma le edicole come al solito ovviamente lì c'è qualcuno alessandro e lei ecco cosa va a fare l'edicola mannaggia santa astag chiara spende soldi dopo non ne diamo non ne abbiamo dopo così delle valline di quello ugualmente eh signor vabbè mangerò pane acqua signori di là c'è il lago di là tanto non mangio cioccolazione quindi con le fette biscottate che è pane quindi la mattina pane latte alla sera al giorno pane acqua lì c'è una farmacia e ricredita non dico si fa verso lago dietro questa casa c'è il lago andando avanti dopo la farmacia su andando sulla sinistra salendo verso la stazione troviamo tiger ecco andiamo di qua così facciamo vedere l'alto vedete già questo stravede andiamo di qua un momento eccolo qua ragazzi il lago di lecco dalla parte di lecco perché possiamo andare anche dalla parte di plomo tutto il bialone praticamente dove facciano le macchine di là praticamente torniamo indietro li vedete dove c'è la farmacia che c'è anche mcdonald è un altro posto di mangiare lì più avanti vedete la piazzetta dove fanno mercatini e anche sul lato più avanti ragazzi fanno dei mercatini praticamente e la piazzetta dopo il semaforo la vedete dove sto riprendendo adesso all'incirca dove c'è quello lì è dove si prende il battello al momento non c'è e li mettono le cose da mangiare praticamente cioè di tutte di più da patatine a ciambelle a qualsiasi cosa vabbè se nello stesso lo dico vi faccio venire fame sempre fame vi faccio venire io per cui bene bene ragazzi adesso stop e ci vediamo in centro bene ragazzi qui ci arriviamo nella zona del centro dove troviamo questa simpatica fontana da qua inizia la zona del centro appunto qua abbiamo chico già paura la chicco dove prendiamo le cose del bambino ad alessandro ragazze io non commento questa cosa ma fa niente ragazze ragazze hashtag ashtag vabbè qui troviamo tally whale cambiamo argomento che meglio di vestiario e balle varie qui troviamo falco neri e falco gialli si troviamo bracco baldo 1900 e 1825 qua mercerie chiesa lasciamo perdere ci mando mia nonna capelli moda e qui questo non lo so come si chiama io gorino italy caffè unione noi ci abbiamo indovinato un po' cioè ragazzi non è possibile oggi è già la quinta edicola che giriamo c'è veramente allora riesco a trovare una cosa beh vorrebbe portare in un video una cosa nuova visto che ultimamente portiamo solo cose vecchie per cui aspetta qua aspetta qua ragazzi ripartiamo dall'edicola con furore fortunatamente non ha preso niente meno male meno male che non ha preso niente c'era già pronto un cannone così in abbattuta qua troviamo un'altra pharmacy qua troviamo scarpe e più avanti troveremo anche tiger all'angolo del prossimo incrocio flying tiger quello di copenaghen che è da poco uscito qui al eco si sta bene c'è tu che sei bollente madonna mia se sei caldo un microond spero che giornata non commenti col solito microond o che domani live visto che lo stiamo girando di sabato di sabato questo video non dica microonde quello che facciamo vedere sempre nei video di casa mamma mia ecco l'incrocio ragazzi questo qua il piccolo incrocio dove possiamo ammirare il tiger poi si trova sotto questo portico troviamo altri negozi similare aspettate ragazzi ci vediamo la taglia perché devo prendere passeggenze ok ragazzi siamo arrivati da tiger e dopo questa vetrina iniziate a immaginare tutto ciò che volete ecco qua ragazzi ecco qua ragazzi ecco qua ragazzi è in disposizione così poi vedete già tutto il mangiare le tazze 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 vedete ci vedete di più ovviamente e adesso ragazzi ovviamente non potrò entrare ma vi faccio vedere semplicemente quello che c'è giochi giochi buona sera buona sera buona sera frappe time gelato time buona sera buona sera fa caldo ciao ci vediamo dopo al rientro a casa ciao ciao allora ragazzuoli dopo il gelato ci torno indietro e ci torno a casa qui facciamo vedere il campanino esatto il campanino ai ragazzi avrei voluto riprenderti quando hai fatto due starnuti prima peccato che non avevi viato il video l'ho fatto l'ho fatto a poco qua c'è la fontana la città 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 noi ci vediamo al prossimo video vi lasciamo con questo bel panorama del campanile di Lecco e ci vediamo alla prossima ciao ciao